bene allora tecnicamente abbiamo un'oretta davanti probabilmente sarà un po meno non voglio tadearvi più di tanto allora workshop workshop vuol dire tutto vuol dire niente cosa farò farò vedere oggi sperando di riuscire a far tutto con la tastiera un intro veramente di base a quello che è la fondamenta del dell'analisi dati in python la libreria si chiama pandas e non c'entra niente con i panda fondamentalmente è una libreria pensata per gestire tabelle non so perché l'abbiano chiamata panda serve a chiedere al nostro amico mark ma poco poco importa cosa vuol dire lavorare con pandas vuol dire fare import pandas spd perché ormai quel spd è diventato standard tutti lo capiscono nel mio caso ho messo anche matt protlib che è la libreria che viene la libreria è una delle librerie che vengono utilizzate per renderizzare i dati quindi un certo punto salterà fuori un grafico ok vediamo se parte sembra andato ok iniziamo dalle basi pandas si fonda in realtà su pochissimi oggetti a un po di funzioni libere qui e la e e due principali oggetti anzi tre però uno è nascosto series series è la base di pandas ossia cosa si intende per serie una serie non è altro che una sequenza di valori di tipo omogeneo stringhe interi float date a cui associato un indice per ogni valore dell'indice c'è un valore finale quindi si può pensare come un x y non una serie di dati se qualcuno mastica di matematica come si crea una serie non capiterà spesso però iniziamo appunto è un intro per cui si parte dalle basi una serie si può creare in qualche sistema uno dei più banali è quello di passargli un array allora in realtà non è un array se volessimo essere precisi a livello di python quella è una lista con le parentesi grafi lì per chi non sa nulla di python rappresentano una lista una lista di quattro elementi i cui valori sono quelli indicati io sto utilizzando un programma giupiter notebook che segue direttamente quello che vedete in tempo reale per mostrare i dati ho dovuto riscrivere la variabile sotto è per quello che sono due righe e basta ecco questa è la renderizzazione grafica di una serie ossia i valori quindi quando io passo passo i valori il tipo lui ha visto che c'è una virgola per cui lo fa diventare in virgola mobile questo è un indice di default che non è altro che un range che va da zero alla lunghezza del della serie ovviamente la nostra serie che io ho chiamato data ha dei metodi questo ti ritorna solo i valori questo ritorna solo l'indice questi range index esistono di vari tipi in questo caso questo è quello di default quando voi passate una lista di valori vengono automaticamente appiccicato un range index quindi da zero a 4 a step di uno cosa fa questo questa cosa qui tira fuori il valore alla posizione uno la posizione zero ovviamente era al 0 25 alla posizione uno e 0 5 quindi rispecchia alla perfezione il modo pythonic di cercare i dati all'interno di un array o meglio di una sequenza se vogliamo essere precisi quindi funzionano anche tutti gli slicing di python cosa ho scritto qua per chi non conosce python ho scritto dammi i dati dalla posizione uno alla posizione tre 3 escluso e quindi in questo caso mi ha dato anche l'indice assieme perché ho chiesto un range della della serie un range della serie è una è una serie a sua volta ora andiamo a dare una piccola approfondimento a quelli che sono gli indici che torneranno utili nella seconda parte del del workshop in questo caso ho preso i dati di prima quindi i valori i value di prima e ho esplicitamente detto alla il costruttore di series di utilizzare quell'indice ora per chi non conosce python questo è un modo carino per dire crea una lista con i valori a b c d separati quindi in realtà quello è una lista lunga quattro elementi ora che gli abbiamo specificato l'indice qui non va più a mettere i numeri del range ma va a utilizzare quello che abbiamo chiesto noi il d type si indica sempre il tipo del valore non dell'indice avendo cambiato l'indice quella scrittura che abbiamo visto prima data 1 non non è più valida perché quell'uno rappresentava il valore all'interno dell'indice b rappresenta adesso un valore all'interno dell'indice che è di tipo stringa e il risultato ovviamente è quello atteso come costruiamo queste series beh ci sono un bel po' di modi ci possono quelle più banali di tutte è la series costruita su un unico valore e ovviamente crea una series da un valore non serve dichiararla come lista l'indice si però questo è per qualcuno che magari smanetta un po' di più in python è una cosa interessante crea una serie partendo da una stringa questo esempio ovviamente non ha senso ha senso nel momento in cui serve per spiegarvi che qualsiasi cosa che sia iterabile può diventare una serie iterabile per chi conosce python ha un significato ben preciso quindi una sequenza uno dei modi più usati per creare le series quando si devono fare piccole series è questo qua questo mette indice e valore assieme l'importante è che siano omogenei nei tipi in questo caso le parentesi grafe dichiarano un dictionary una mappa chiamiamola che associa al carattere A al valore 1 B eccetera eccetera e lui lo crea lo ritrasforma sempre nella series ok qui forse chi non conosce python può perdersi un po' ho messo i commenti per definire quali sono i valori fondamentalmente ho creato un dizionario in cui per ogni valore 0,1,2 è associato il suo quadrato quadrato numerico e l'indice è un indice che va da 0 a 10 a step di 2 quindi è un indice che fa solo i numeri pari 0,2,4,6,8 la cosa interessante qual è? che l'indice fa da filtro io sopra ho una serie ho un valore un dizionario con 10 valori ma la serie ne ha solo 5 che sono quelli dell'indice l'indice ha filtrato i valori quindi vince l'indice in questo caso arriviamo al cuore al cuore pulsante di pandas quando si parla di pandas si parla di data frame data frame dall'altro è un termine che credo sia stato rubato da R ma non importa data frame che cos'è? volendolo semplificare è un insieme di series che condividono lo stesso indice per semplificare ancora di più è una tabella è una semplice tabella ovviamente è ottimizzata magari accendo un attimo ottimizza come? ottimizza perché le serie se essendo omogenee nel loro tipo le può aggregare e fa tutta una serie di magheggi nel suo interno per essere più performante ma a noi interessa relativamente poco qui vedremo nella prima parte un data frame di esempio che ho creato andando su wikipedia e cercando questi valori che vedete qua che valori sono? ho preso le province del Veneto e ho fatto un dizionario che è il km2 con i chilometri quadrati di ogni singola provincia e il numero di abitanti per ogni singola provincia l'underscore serve solo unicamente per visualizzare in maniera un po' più rapida l'utente ma non ha valore non è una virgola non vuol dire niente quindi Padova è 210.993 abitanti questi sono i dati di partenza eseguo per registrarli nel notebook e creo il data frame ora il metodo un metodo molto comodo per creare un data frame è quello di utilizzare anche questa volta un dizionario o una mappa se qualcuno arriva da qualche altro linguaggio come vedete non faccio altro che dire il dizionario che era volendo diventa una serie ma lo fa giù lui in automatica al suo interno degli abitanti lo chiami abitanti quello dei chilometri quadrati lo chiami KM2 e voilà questo è come si presenta un data frame è come per la maggior parte del tempo lavorerete con pandas quindi le colonne sono delle series il cui indice è comune l'indice in questo caso come avrete intuito sono i nomi delle province e questo ce lo garantisce il dtype object sta per leggete lo string tutto quello che non è numeri diventa object le colonne giusto per avere questo può tornare utile per qualche ciclo for per qualche libreria se dovete fare qualche cosa in automatico sapere quali sono i nomi delle colonne prime funzioni le prime che si vedono quando si affronta un data frame di pandas head head è come il comando unix mostra le prime due righe info invece è già più interessante questo vi può tornare utile quando caricate dei dati che non conoscete bene ti dice intanto che è un data frame voi dite beh è normale non è più avanti si va poi potrebbe essere una classe diversa comunque va bene è un data frame a sette righe di indice da padova a belluno in questo caso ha poco senso due colonne non null int e float non null perché potrebbero anche avere dei valori vuoti all'interno uso di memoria come potete vedere irrisorio questo invece è un comando che già di per sé potrebbe farvi utilizzare pandas in qualche programma anche solo per avere questa cosa qua describe non fa altro che darvi quello che sono le statistiche di base che tutti prima o poi guardiamo in un dato dal conteggio alla media alla deviazione standard al minimo massimo ai percentili comodissimo comodissimo quindi questo spesso delle volte a me capita di caricare un excel solo per avere questi al volo senza dover diventare armato a lavorare sul spreadsheet ovviamente anche questo essendo una tabella è indicizzabile cioè ci posso cercare i dati come funziona è intuitivo sì e no nel senso che essendo una tabella orientata alle colonne l'indice che io passo cioè il valore km2 sta a indicare la colonna che mi interessa e lui ti darà una series con l'indice ovviamente e i valori di quella colonna la cosa interessante è che se io passo una lista a questo data frame lui ti dà un subset di colonne ora io in questo esempio minimale ho solo due colonne però avessi avuto 50 colonne volevo vedere solo quelle due facevo questo ed ero a posto filtrato per colonna istantaneo ora andiamo un po' sui dettagli tecnici però questo torna utile perché è stato per esempio una delle prime cose che quando ho affrontato pandas mi sono chiesto ma ok bello ho le colonne ma se voglio una riga per la riga c'è un comando che sta a indicare locate fondamentalmente è lock questo ti dà la riga la riga in cui l'indice sono le colonne e i valori i valori quindi questo è già un po' più meno intuitivo è anche vero che parlando con gli sviluppatori di pandas mi hanno detto si ma noi ragioniamo colonne ragionare a righe non è lo scopo di pandas però te lo fanno fare ovviamente i lock questo è lo stesso comando di prima ma quella i lì sta a indicare che non me ne frega com'è composto l'indice se sono stringhe float io voglio quello in posizione zero e questo è il comando quando avete capito colonne indice normale e indice posizionale con pandas avete finito potete già fare quello che volete per esempio potete selezionare una colonna e chiedere la riga oppure potete avere una funzione uno script che vi da che righe vi interessano che colonne vi interessano e con la sintasi che abbiamo visto prima ottengo quella porzione di tabella oppure iniziamo a fare quello che accennavo prima se mi avete seguito sul talk del precedente che è la vettorializzazione sono riuscito a dirlo qui è scritto in maniera talmente leggibile che quasi non vorrei commentarlo nel senso che del mio data frame che rappresenta le province del Veneto voglio gli abitanti le province con gli abitanti maggiori di 100.000 a booleani vabbè sembra una una castronata però in realtà per chi lavora in informatica sa benissimo che un maggiore ritorna un booleano interessante lo posso fare però anche questo cosa vuol dire quel molti abitanti è una serie ed è una lista di boolean quindi fondamentalmente è una maschera io quella maschera lì la posso usare per filtrarmi i dati quindi posso dirmi vabbè delle province del Veneto con molti abitanti mi dai i chilometri quadrati? sì eccole qua quel zen lì è il zen di python lasciamo stare per adesso non conta boh quelle molto estese quindi che questa è la la sintassi di prima solo applicata ai chilometri ok qui ho il prospetto ho la maschera voilà questa secondo me è una di quelle cose che vi potrebbe far innamorare di pandas in realtà esiste anche un paio però va bene per pandas delle province del Veneto voglio quelle che hanno molti abitanti e sono molto estese grazie eccolo qua questo in quanto leggibilità credo sia un un valore enorme perché nel momento in cui si riescono a individuare tutti i filtri e tutte le le operazioni da fare può veramente tornare molto utile avere una sintassi così asciutta beh non contenti adesso che abbiamo gli abitanti e abbiamo i chilometri si possono anche creare serie nuove dati derivati se io faccio come prima ho fatto maggiore di 100.000 posso anche chiedere bene a parità a parità di indice questo è il punto di chiave a parità di indice prendimi gli abitanti prendimi i chilometri e fai questa divisione che è la densità io non sono uno statistico per cui non garantisco che sia la definizione di densità però lasciatemi questo questo dubbio questo nuovo risultato questo densità è una serie a se stante è sganciata dal data frame e tra l'altro vabbè la rotondo perché così è un po' più comodo da leggere e la metto all'interno del data frame questa è un'altra peculiarità di di python e di data frame che gli dici beh questa densità che non esiste come colonna gli appiccichi questa serie questo ovviamente è bello si può fare perché perché l'indice è lo stesso quindi a parità di indice si può fare questa aggiunta però in in tre passaggi in realtà un passaggio se chi poi lo sa sa mettere insieme il codice ottengo un dato derivato beh questo per quando avete pochi dati può tornare comodo girarli se avete cose più complesse da fare esistono anche le modalità pv che permettono di fare cose mega galattiche sui dati bene abbiamo quasi finito la prima parte cosa c'è scritto qua qua c'è scritto ordina i valori che sono presenti in densità in ordine decrescente e dammi primi tre voilà ora se volessi fare qualche statistica solo su quella colonna describe funziona comunque e anche round ovviamente e anche qui abbiamo già qualche dato interessante per concludere perché non disegnare i dati che abbiamo visto in questo caso non è un disegno ragionato è banalmente serve per farvi capire che la funzionalità di plotting sono già integrate quelle base base in pandas quindi se state lavorando con un notebook che vi consiglio di fare quando state analizzando i dati può tornare comodo dire vabbè punto plot vedo i dati poi se li volete fare graficamente perfetti iniziate a lavorare sul sul loro export su altre librerie però per una prima analisi va più che bene anche perché basta fare punto bar e abbiamo gli histogrammi magari vogliamo gli histogrammi orizzontali basta aggiungere un H e abbiamo quelli orizzontali e beh vogliamo solo la densità perché è quella che mi interessa carino però così si capisce poco forse è il caso di dire beh della densità del mio data frame ordina i dati disegnali come barre orizzontali e voilà questo è un dato che potete trovare anche su un giornale su un quotidiano e l'abbiamo fatto in mezz'ora perché ho parlato ma in realtà ci mettete pochi secondi o pochi minuti a realizzare e soprattutto la cosa a cui a cui tengo è che c'è scritto dei miei dati prendi la densità ordinali disegnali come barre orizzontali e fig size serve solo per farvele vedere più grande cioè abbiamo detto quasi in linguaggio naturale cosa fare con i nostri dati e credo che questo sia il valore più grande che a pandas in assoluto la parte 2 la vediamo tra un paio di minuti grazie 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 grazie